Mami rivolta a Surbon, cartello elettorale in una ludoteca della città, manda su tutte le furie chi, accompagnando i più piccoli in un luogo che dovrebbe essere didattico e ricreativo, si ritrova uno spot elettorale. Candidati a sindaco sono cinque, centrodestra spaccato con Giuseppe Maroccia e Fabio Vincenti, poi c'è Lauretana Paladini, Martina Gentile per il centrosinistra, Giovanni Barba per il Movimento 5 Stelle e Massimo Pareo, candidati che pancia a terra, rastrellano voti e attaccano manifesti e a vedere le foto, nessuno spazio viene lasciato libero, così anche la ludoteca diventa una valida vetrina per una presenza costante come recita lo slogan di Fabio Vincenti, uno dei candidati a sindaco. Gli eccessi alla follia della campagna elettorale, scrivono le mamme, esagerano, coinvolgendo anche coloro che avrebbero il diritto di rimanere sereni, proprio in questi giorni sono comparsi di notte manifesti elettorali su recensioni di scuole elementari private e pubbliche, speculare e approfittare di bimbi dimostra lo spessore di determinate situazioni, noi mamme siamo nauseate, la protesta c'è da giurare e solo all'inizio.